Lo sai che il calcio in Vietnam iniziò a svilupparsi dalla fine dell'Ottocento, questo grazie alla presenza dei francesi sul territorio vietnamita, che era nota come Indocina francese. Il calcio prese immediatamente piede in Vietnam, tanto che i primi campionati, soprattutto nella parte sud, quindi a Saigon, l'odierna Ho Chi Minh, si inizierono a disputare i primi campionati già dai primi decenni del nuovo secolo. Una delle scuole più forti era l'Unione Sportive Saigon Nè, che era di origine francese e vinse diversi titoli tra 1907 e 1913. Anche lì inizierono a formarsi le prime scuole formate da vietnamita, tuttavia anche nella popolazione locale il calcio era accessibile solamente a coloro che potevano frequentare questi circoli, quindi da persone di classe agiata e che parlavano tra l'altro il francese, perché ancora non era stato tradotto il calcio. Quindi nel 1925 un medico di nome Fom Vantiek, che tra l'altro era anche giocatore in una scuola di fondazione vietnamita, il quale ha studiato tra 1917 e 1919 ad Anoy, proprio in una scuola, in un'università francese, e quindi parlava benissimo il francese, oltre che era diventato medico proprio lì e aveva giocato a calcio all'interno dell'università, decise di iniziare l'opera di traduzione del calcio. Ma non solo una traduzione, in quest'opera che era divisa in 11 capitoli, inserì dei brevi cegni storici, quindi come era arrivato, dove era più sviluppato e dove era meno sviluppato. Inoltre scrisse anche dei rudimenti, di come andavano fatti i gesti tecnici, di come funzionava il calcio, le regole, di come dovevano essere vestiti i giocatori e tutte queste cose. E l'undicesimo capitolo era dedicato all'ordinamento della stagione, quindi che durava 8 mesi, veniva giocata una coppa, quindi che aveva una formula di torneo e un campionato che è andata in ritorno. Inoltre, in quest'ultimo capitolo, inserì anche come le scuole dovevano effettuare le iscrizioni e i regolamenti dell'iscrizione. Quindi, diciamo, un'opera molto all'avanguardia che, tra l'altro, trova moltissima spinta, un implemento ulteriore nel calcio in Vietnam, che era già popolare. Questo Fomov Antiek appunto vide che le popolazioni locali apprezzavano il calcio e quindi decise di tradurlo. Quindi, diciamo che la nascita del calcio vietnamita a livello ufficiale avvenne proprio nel 1925, quando il calcio venne tradotto in lingua vietnamita. E da lì tutti poterono accedere al gioco del calcio. E, sin da subito, si rivelarono giocatori ancora oggi famosi nella storia calcistica vietnamita, che sono ricordati comunque sempre quando si parla di calcio del passato, ovviamente facendo sempre riferimento a quei periodi, di giocatori già vietnamiti che erano di altissimo livello. Infatti il campionato aveva già un buon numero di squadre, erano presenti ancora le squadre francesi che non erano così impattanti come fino a qualche tempo prima. Fomov Antiek giocò fino agli anni 30 per poi aprire uno studio medico che, tra l'altro, era moltissimo popolare, in quanto molti lo conoscevano, perché era stato al tempo un medico calciatore di assoluto livello. Questa è la storia fino al vietnam, fino ad un certo punto. Poi ci sarà la divisione, ma questo è per un altro video. Questa è la storia di Fomov Antiek, colui che tradusse il calcio dal francese al vietnamita, inserendo anche i rudimenti della tecnica e tutte le varie regole di come dovevano avversi i giocatori e quant'altro. Io vi saluto, ciao!